A Trinità di Sala Consilina, la piazzale Quadrifoglio, perché il supermercato riserva tantissime sorprese che vanno dalla tavola ma anche all'igiene e tutto quello che può esserci per i nostri regali, perché su una superficie così tanto vasta troveremo sicuramente l'articolo e noi con Pillole di Natale potremo darvi l'indirizzo e soprattutto il consiglio giusto. Seguitemi! Qui al Quadrifoglio c'è da aspettarmi Carmen. Ciao Carmen, come stai? Ciao, buonasera. Ti vedo immersa in tanti panettoni. Avete visto tanti panettoni. Una dolcezza per il nostro Natale quest'anno. Ne abbiamo tanti, di tanti tipi, di tante marche. Per tutti i gusti? Sicuramente. Oltre questo che vediamo alle tue spalle, dovrei essere brava anche a spiegarci tutto quello che potrà stare sulla nostra tavola e soprattutto qualche oggetto regalo perché vi siete attrezzati come sempre bene. Certamente. Come sempre nel nostro supermercato trovate un vasto assortimento di un po' di tutto. Insomma abbiamo i cestini che sono i nostri punti di forza. Partono da 9,99 euro a salire e c'è una varietà incredibile. Dentro c'è veramente di tutto? C'è di tutto ma si può anche fare su richiesta senza nessun problema. Poi abbiamo un vasto assortimento nel reparto dell'enoteca e anche lì c'è una svariata scelta di licori, spumanti. Anche là una scelta un po' per tutti insomma. Poi abbiamo anche un sacco di ceramica natalizia quindi può essere un'ottima idea regalo per una signora, un'amica. Infatti i reparti sono fornitissimi e poi il Natale per eccellenza deve comunque portare tanta allegria e soprattutto tante bontà sopra a tavola. E allora c'è veramente di tutto. E ci siamo attrezzati anche quest'anno. Infatti da settembre abbiamo aperto due nuovi reparti, la gastronomia e la pescheria dove di sicuro troverete tanta roba di prima qualità. Anche su richiesta si possono richiedere piatti pronti per la vostra tavola natalizia. Da quello che avete capito ovviamente non è solo per il Natale, il quadrifoglio vi aspetta tutti i giorni con tantissime offerte e convenienze e tanti reparti. Dobbiamo dare tanti auguri a tutti e dobbiamo farlo anche per far capire che il quadrifoglio vi aspetta a Trinità di Sala Consigli. Certo, auguri a tutti e buone feste. Vi aspettiamo, ciao! Grazie a tutti e buone feste.